La benedizione al Duomo di Salerno nasce nel 2017, quando è stato costruito questo nuovo club a Salerno. Siamo una bella realtà per la città, facciamo tante manifestazioni da noi. Oggi siamo qui, siamo circa 50 Vespe, di nuovo al Duomo, come ogni anno. Ci raduniamo, abbiamo fatto un bel giro per la città, alla piazza della Concordia, siamo arrivati giù alla zona industriale di Salerno per poi ritornare dall'ospedale per la città. Siamo le ragazze, le donne a partecipare attivamente al nostro gruppo, si fa solo piacere la rappresentanza femminile, anche se ovviamente è un mondo che appartiene ai maschietti, però io ne sono legale rappresentata. Abbiamo altri raduni nelle prossime domeniche, diciamo che la stagione turistica, sportiva e storica del Vespa Club Salerno, piano piano andando con l'inverno si chiude, però qualche uscita la facciamo sicuramente ad ottobre. Stanno, la chiediamo in modo particolare dell'intercessione di San Marcello, stanno ci pieni dici anni di con la mano, la prima volta. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo stiano con tutti voi. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo,